oddio ebbene amici fratelli della congrega ho sistemato così tutto sto schifo cenere un uomo incenerito il falò intorpidito o torbido c'è una differenza fra torpido la cui intorpidito e intorbidito ma che sto dicendo sono veramente come direbbero a bulagne uno smith scusate che passa su radio capital questa passa deve pulire ora beh allora l'altro giorno su radio capital hanno dato il concerto di giamiro quei ma sempre giamiro quei già ai tempi delle scuole medie adesso vi racconto che i miei haters si basano naturalmente sulle loro impressioni di me non voglio impressionare chi che sia non sono neanche un pittore impressionista come van gogh citato da david lynch in questo documentario che è vero io lo devo vedere regolarmente perché ha una funzione taumaturgica e anche qualche volta rivedere the story story una storia vera mi riconcilia con la serenità d'animo perché si viene sempre tormentati basso così non vengo mal ad occhiato anche se è notte non c'è il sole allora ho visto ripeto questo defabelment sono anche scritto per il mullo a lynch una mia creazione una creazione ho due tre siti non mi fruttano quasi nulla anche se ho messo adsense presto arriverò ai 70 euro per il pagamento di adsense tramite youtube vabbè si fa quel che si può già inviato i file del cartaceo si fa così c'è una procedura una prassi da seguire e domani incasserò la cifra di 27 euro forse qualcosa in più tramite gli introit ricavate che è in self publishing per modo di dire mi ricordo che ecco tipografia tipografia il grafico no un insegnante che era anche bella aveva delle belle cosce si si no non era quella era un altro del manzo ma ben sto romanzando sarà il nuovo alessandro quello dei promessi spose chiese una fotografia dall'alto che cos'è cos'era una cinematografa questa qua più docente di letto io rispose anzi suggerì la risposta a uno che era interrogato avete presente liceo scientifico sabin su cursale via brocchè indosso questo qua prese un bel voto perché rispose topografia c'è la differenza poi lui non mi suggerì complimenti che amico da merda vabbè comunque poi mi isolai mi estraneai tante leggende metropolitane scusate è uguale si ma ho capito però non riesco a capire c'è sempre qualcuno che deve disturbare è uguale la macchina cioè stava entrando l'inconvenienza poi vi riducete come questo un po rimbambite no io fui accusato di demenza di schizofrenia anche cazzeggiando vabbè dai cazzeggiamo così speriamo che si levi questo qui vecchione come balanzone dai sta rovinando la registrazione o male al panzone no al pancino al pacino fatto crescere il pancione a questa qua che non ha neanche 30 anni il bambino al pacino funziona ancora il pisellino però è una vecchia cariatide devo curarmi da qualche carie no la prossima settimana fra due settimane smacchiarmi i denti gialli come questo come serfalo 2 lo sto recitando sono stato molto sincero ho raccontato la verità di quello che provo esplorando la mia anima dicendo anche delle cose che possono apparire sgradite sgradevole qui è tutto un via vai di rotture di coglioni questo porta a passeggio il cane cioè lui stesso si si vede presente quella scena in mezzanotte del giardino del bene e del male quelle pazze porta a passeggio cosa a guinzaglio io io sono un cagnolino david lynch inizialmente ha rifiutato il ruolo di john ford in questo film di spilberg che non mi ha entusiasmato non è brutto è bello e dovete sapere che non è bello essere eliminato dai cosiddetti amici contatti su facebook perché ho scritto però adesso dobbiamo pulire qui quei post a modi aforisma di oscar wilde è bello ma figlio di un regista e lo penso ho anche scritto una recensione su film tv senile e morto artisticamente parlando cioè quando uno celebra se stesso poi pensavo si trattasse un film diverso cioè che seguisse l'escursus filmografico di spilberg qui abbiamo i fabelmans abbiamo questo ragazzo ma è bello gabriella bell preferisco la pornattrice io sono esperto i pornattrici preferisco nicole clitman a nicole kidman non è male quella biondina no non è male no io so io so quello non sono il commissario no la butto a ridere scherzo sulle mie tragedie esistenziali sui miei disagi ma è giusto essere dei disagiati per lo meno essere inquieti le persone stabili imborchisite mi spaventano adesso voglio essere come nanni moretti poi diventano veramente come henry lucas o come quell'altro otis io sono il principe degli internati principe sangue blu la malattia dell'ombroso caro diario john mcnewton comunque lo sbiro il boss e la bionda a quest'incipito un po' macabro il sangue vabbè adesso ci stiamo perdendo in chiacchiere john mcnewton un regista che prometteva bene poi tutti quei finali colpi di scena quel film l'avete visto per guardare quelle fighe dai quel film con mad dillon che poi propose la malattia dell'ombroso you don't know jack no no non è il dottor morte jack e borkian film per la tv di barry leviso con al pacino no la casa di jack una delle più grandi cagate come quasi tutti i film di lars von trier il dogma cosa ne penserebbe la svontriere di questi video da idio chern da idio savon poi abbiamo savanna 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 dove sta john chius che è in mezzanotte piena del mare che è un film strano un film quasi esoterico ci sono i riti voodoo c'è la figlia di clint eastwood ellison eastwood che si vede anche nel film il corriere dei mule cari muli e asine è buona quella io le darei dentro vabbè dai io brontolo mi ricordo un mio amico delle scuole medie ecco dice il mio haters no io guardavo i film costallone van d'amber che ero molto cazzuto a quei tempi speravo nella vita mi medesimavo in questi tipi giocava a calcio era atletico dinamico poi mi sono ammosciato sono diventato un esistenzialista malingonico come travis bicol più sofisticato diciamo cerca di vedere al cinema e alla vita il cinema e la vita in una maniera superiore l'intellettuale che non si era diplomato poi il diploma se l'è comprato non credo ben lauretto no cazzeggia fa scrive sarà batta inserisce clip a volte li inseriscono nel culo metaforicamente parlando perché non sono omosessuale questo qua Bronte pensate un altro genius questo per evitare l'interrogazione programmata sia alle scuole medie non alle scuole superiori della professoressa italiana Crosara che era una racchia simulò di essersi rotto la spalla ma se la ruppe sul serio perché uno gli diede dei pugni cioè più che altro se la lussò una lussazione non poteva dire ai suoi genitori no perché i suoi genitori non erano diplomati forse non aveva neanche la scuola media di questo Bronte cioè non aveva la licenza scusate per questa licenza non aveva la scuola media di una licenza poetica però diciamo lui aveva paura di loro perché la scuola dell'obbligo mi obblicheranno e poi se vengo bocciato se vengo bocciato guardava già tutte le ragazze con le bocce perché era stato già bocciato diciamo che stava sbocciando in lui quella sorta di ribellione poi portava tutti quei giornaletti non porno tipo hustler playboy che non sono porno guarda che carrozzerie infatti guidava già la macchina aveva 15 anni una volta si presentò lì nel parcheggio con la macchina Mercedes Mercedes Carrera tutta rifatta quella pornatrice poi noi vogliamo parlare dei nomi e dei cognomi che mettono Samantha Saint Santa di niente è una zoccola tutti questi nomi Everard sempre duro uomini vichinghi caucasici cioè praticamente sono Conan il Barbaro Conan il Barbaro questo maschilismo due settimane fa è successo un episodio veramente brutto per fortuna che avevo un po' bevuto ero fuori di me quindi non ero in me altrimenti gli altri li avrei presi e scaraventat per aree sì mi stavo filmando uno che mi ha sempre servito il cintone beh cosa fai ti filmi basta non sei Jean-Luc Godard e non sei neanche Jean-Claude Van Damme quindi ti picchio mamma mia un altro mi ha strattonato vattene via chi pensi di essere un regista no non sono niente niente nessuno e poi c'è il turismo sessuale questi che poi hanno frequentato delle scuole professionali sono presi il diploma perché prendessi il diploma comunque è importante è il pezzo di carta poi erediti una fortuna da tuo padre e apri due tre locali e poi fai anche il figo sì ma non me ne frega un cazzo di chi è Nanni Moretti e di chi è Robert De Niro io guadagno 100.000 euro al mese è chiaro? io sono un uomo poi danno del coniglio a me io ho una donna e poi hanno anche le amanti che è una coniglietta di Playboy hai visto? dove l'ha raccattato? in Brasile poi ci si riduce come ho inserito la clip di Ronin c'è anche Jonathan Pryce come Jonathan Pryce e poi c'è anche De Niro entrambi i figli soltanto che De Niro è il protagonista di Ronin viceversa in Brasile poi ti fanno il lavaggio del cervello e qualche età no? pensa che i farmaci i psicofarmaci creino dei danni neuronali no? bloccano l'aggressività quando invece andrebbe bloccato lui quindi ti dice testa circoncisa e che sono un ebreo eh? come Steven Spielberg sono un ebreo è difficile diciamo dare dell'ebreo no? dell'uomo malato di Lebre dell'ebroso alfalotico perché diciamo che a volte è nervoso ma è giusto perché vuole essere come De Niro no? come al pacino di Hit scattante reattivo come devo essere altrimenti si è morti poi ehm si diventa come Viggo Mortensen no? ehm che non ci assomiglia per niente a Freud in Dangerous Method ma neanche Fassbender a Jung eh? però sono grandi attori sì ma non ci assomiglia per niente grandi attori Fassbender è un bell'uomo che poi è un mezzo pervertito in quel film scema si è messo con una scema da Alicia Vikander è buono grande attore poi tutte queste che femministe che fanno le critiche di cinema no? però ma Michael Fassbender adesso ritornerà con The Killer di David Fincher di David Fincher e che farà? un altro flop come Snowman prodotto da Scorsese è stato un flop anche lo sbirri il boss e l'abbiota è prodotto da Scorsese? eh? è prodotto da Scorsese? ma non voglio apparire Scortese domani reciterò il capitolo 5 del commissario Falò 2 un viaggio introspettivo di introspezioni anche di spezioni di indagini è chiaro? è chiaro? è chiaro? è chiaro?